E' con noi il dottor Maurizio Onoscuri, che è uno specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio. Oggi si dice più sinteticamente pneumologo. L'abbiamo invitato perché, per fare il punto, ancora una volta, questa è la terza volta, su questa infezione della TBC, che non si capisce se sia in aumento, strisciante, diminuisce, se ne alleggono in tutti i colori. Allora, com'è la situazione? Allora, la situazione generale, per quanto riguarda i dati dell'organizzazione mondiale della sanità, evidenziano una malattia tubercolare in riduzione in tutti gli stati. C'è un obiettivo per il 2015 del dimezzamento dei casi rispetto al 1994, che verrà raggiunto solo in alcuni paesi. Perché proprio nel 1994? Ma perché hanno preso un punto di partenza quando hanno fatto i programmi prospettivi e hanno fatto un programma con scadenza a 2015, dove si propongono il dimezzamento della quota di tubercolosi. Questo dimezzamento è già stato raggiunto a livello delle Americhe, verrà probabilmente raggiunto anche in molti altri continenti, forse salvo l'Africa, perché c'è una situazione più disperata. Però comunque la tubercolosi è in riduzione. A livello europeo, l'SDC, l'organismo europeo che segue le malattie infettive, evidenzia una riduzione. A livello italiano c'è una riduzione, come c'è anche evidenziato dagli ultimi dati relativi al 2011, pubblicati dal Seremi di Alessandria, che è il centro di raccolta dati sulla tubercolosi, sulle malattie infettive. Quindi sono dati di qualche mese fa? Sono dati, diciamo, che sono stati conclusi a fine 2011 ed evidenziano una riduzione della tubercolosi sia negli italiani che negli immigrati, seppure gli immigrati abbiano un'incidenza di tubercolosi molto superiore rispetto agli italiani, c'è evidenziata una riduzione anche negli immigrati. Infatti i rumeni che erano i più colpiti hanno avuto una discreta riduzione anche come incidenza e sono intorno al 60 casi per 100.000. E questa diminuzione a cosa è stata prodotta? La diminuzione è stata prodotta da un migliore trattamento della malattia, da un migliore controllo a livello dei sistemi sanitari sia nostro che stranieri e quindi un'individuazione più rapida mediamente dei casi con un trattamento, diciamo, con dei buoni esiti, specialmente da noi in Europa e in particolare in Italia. Con un'evidenza maggiore ultimamente di tubercolosi resistenti che però riusciamo a trattare in buona parte pur con costi e impegni molto superiori a quella norma sensibile ai farmaci. Lo schema di infezione, a meno che si vocifera più attendibile, sembra che sia praticamente una riacotizzazione di quello che una volta si chiamava complesso primario. Cioè sono persone che hanno avuto già un contatto con il batterio, il micobatterio da tubercolosi. Questo batterio è stato sequestrato, cementificato all'interno e in una parte dell'organismo, magari l'intestino in genere o il polmone. Le condizioni di vita nuove, cioè qui da noi, di queste persone, la promiscuità, a volte la fame, il freddo, eccetera, eccetera, il stress di tipo ambientale propongono una riacotizzazione del problema. E' così? Oppure sono invece casi nuovi, cioè il contatto è recente? Dunque, l'immigrato, in particolare gli immigrati dall'est Europa, mediamente arrivano con l'infezione primaria già acquisita in loco. E le condizioni di vita particolarmente disagiate provocano una riaccensione della malattia. Sostanzialmente non arrivano malati, ma arrivano con l'infezione latente, che poi per condizioni avverse si slatentizza e si realizza come malattia. Una percentuale di popolazione italiana che è nelle stesse condizioni. Esatto. Direi, non sapere dire la percentuale se lo sa lei. Infatti, i nostri anziani erano i più colpiti e stanno anche loro riducendosi, un pochino perché i vecchi cronici sono mancati, però un pochino anche perché stanno diventando anziani persone che non sono più venute a contatto con un bacillo tubercolare come nell'immediato dopoguerra. Quindi c'è un'evoluzione della popolazione. Infatti, l'andamento della tubercolosi in Italia, in Piemonte, eccetera, è bimodale. Cioè, colpisce, vediamo, un picco a livello dei 35 anni prevalentemente rappresentato dagli immigrati e un picco a livello dei 60-70 anni prevalentemente rappresentato dagli italiani. E quindi è un problema comune. Sono le condizioni ambientali che fanno emergere il problema. Quindi bisognerebbe questi extracomunitari farli vivere meglio. Sì, fare vivere meglio gli extracomunitari, diciamo, per quanto è possibile. Purtroppo però lo stress da delocalizzazione, determinate situazioni dove magari non si arriva fino alla fame perché poi dal più al meno se la cavano. Il problema è poi magari l'insicurezza, problemi che, diciamo, alloggi plurifrequentati con 7, 8, 10 persone per camera. E allora questo favorisce anche il contagio tra di loro una volta che uno di questi abbia la malattia conclamata. E quindi favorisce poi una trasmissione a livello interumano senza... Anche tra quelli che il compreso primario non avevano ancora. Esatto. E alcuni, adesso che i più giovani, in particolare degli immigrati, già figli magari di prima generazione, si integrano e man mano che si integreranno ci sarà poi, secondo quello che è dato pensare, un maggiore interscambio tra giovani della malattia. Infatti vediamo già anche dei giovani italiani un pochino di più ogni tanto infettati o ammalati probabilmente per contatti avvenuti con stranieri. In ambito politico c'è qualcuno che soffia sul fuoco di questa emergenza, cioè colorandola con, diciamo così, contoni apocalittici. Poi ci sono i giornali che cercano di riportare la situazione poi in confini più accettabili rispetto a quanto è nella realtà, però si dice una cosa, cioè che si dice, i dati che lei ha appena detto vengono in qualche modo pubblicati, però si dice anche che Torino è in controtendenza rispetto a questo. Ci vuole spiegare esattamente com'era quella situazione? Torino è in controtendenza rispetto al resto del Piemonte, ma come d'altra parte possono essere tutte le grandi città rispetto al resto della regione. Ad esempio Milano ha un numero di ammalati di TBC pari al numero di tutto il Piemonte, quindi è anche molto più grande di Torino, Milano, però Roma idem. Quindi tutte le grandi città rappresentano un'attrazione per gli immigrati in quanto magari più possibilità di lavoro, più possibilità di sistemazione e quindi una specie di quarantena al contrario, nel senso che abbiamo più vita in comunità, più vita negli stessi punti, più possibilità di incontro e quindi maggiore possibilità di diffusione della malattia tubercolare. Però non fa eccezione rispetto alle grandi città di tutto il mondo praticamente. Le tre grosse specialità che si occupano del problema tubercolosi sono gli epidemiologi che registrano quello che avviene e che fanno proiezioni per quello che potrebbe avvenire, cosa altrettanto importante per la carità. Poi ci sono gli infettivologi che curano e gli specialisti come lei, diciamo gli pneumologi, così capiamo tutti, che curano le forme polmonari soprattutto. Vi parlate tra di voi o manca una struttura di coordinamento? No, strutture di coordinamento... C'è a livello regionale ovviamente. Assolutamente a livello regionale. È stato fatto un incontro per tutti quelli che si interessano del problema poco tempo fa all'Ares, quindi in regione, invitati tutti sia infettivologi che pneumologi che medici del territorio dei cosiddetti ex dispensari, diciamo, gli epidemiologi e quindi è stato fatto un punto della situazione perché a livello politico regionale si voleva avere un'idea più chiara di quello che sta succedendo, diciamo. Però non c'è bisogno né di fare task force, cioè siamo nell'ordinaria amministrazione, non c'è nessuna emergenza, possiamo dirlo. Direi di sì. Noi i nostri ricoveri sono stabili da alcuni anni, intorno al San Luigi, tra i 60 e i 70-75 ricoveri all'anno per tubercolosi. Però non sono né aumentati né diminuiti, sono stabili. Ci sono casi, l'ultima domanda, ci sono casi in cui, per la sua esperienza professionale, che le cosiddette assistenti familiari, le cosiddette badanti, abbiano infettato gli anziani a cui dovevano prestare assistenza? Come si vocifera più o meno dicendole, a volte negandolo, a volte affermandolo in maniera non chiara o no? Ma noi abbiamo avuto delle badanti ricoverate, però poi all'indagine epidemiologica non era risultato dei dati particolari a livello della famiglia coinvolta, diciamo. O perlomeno, se c'è stata qualche infezione, solo proprio infezione e non contagio di malattia vera e propria. Questa, l'indagine epidemiologica, è più un compito dei medici del territorio, e quindi posso anche non sapere alcuni risvolti, però mediamente... Se arriva a lei! Sì, quando ho l'ammalato io poi mi chiedono subito le denunce, perché poi ci sono i parenti magari che si presentano per essere controllati, e quindi le cose magari di rimando le sappiamo. Però diciamo che una grossa casistica in questo senso non esiste, sono più forse delle butade mediatiche, come ce ne sono state di altro tipo, diciamo. La ringrazio molto. Grazie a lei.